Buongiorno, dobro jutro, guten morgen. Buongiorno, voi vi preparate una buona guliezione per le vostre anime, con le parole del Salmo 130 volte. Stai a sentire. Signor, tu mi conosci tanto bene che mai. Tu sai quanto mi senti e quanto mi senti. Tu, già di lontano, tu capisci cosa pensi. Tu mi tenis di voli, quanto chiamini e quanto mi pongo. Tu ti trovi che io chiami, tutto io ha saprati che. Non mi è anche in modo vigno della parola e sulla ponte delle linghe che tu, signor, tu hai già capito tutto. Tu, tu mi tenis su, tu sei sdenant e da ur di me e tu mi metti la mano sul chiave. Do l'appodaressi io là, lontano dal tuo spirito, do l'assciampare del tuo presince. Se io vuoi su in Cil, tu sei sdenant, se io mi imbusi tra l'infars, beh, che tu sei lì. Se io svolgo i culissali di aurore e io vuoi stare di là dal mar, anche là la tua man mi compagni, là la tua destra mi chiappe. Mi vendi di, al manco l'iscur mi taponarà e l'agnod mi squindarà, ma l'agnod parte, è claret anche il dì, e la scuretà parte, è come l'usore. Insomma, ho sentito le mani, sempre, ogni momento, dappardotto. Buone giornate e buone vite!